La seconda ondata è già arrivata. Sono 61 i nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana, un dato che non si vedeva dai giorni del lockdown. C'è però una differenza fondamentale se nel periodo più nero dell'emergenza erano soprattutto gli anziani a finire negli ospedali o a perdere la vita anche a causa del virus. Ora i contagi sono in maggioranza giovani che si sono ammalati frequentando locali o in centri estivi o ancora nei luoghi di vacanza. L'età media dei 61 nuovi casi è di 32 anni e per quanto riguarda gli stati clinici il 77% è risultato asintomatico, il 19% paucisintomatico e il 4% con stato lieve della malattia. Le persone sono quindi tutte in buone condizioni di salute e già in quarantena. Non a caso nonostante l'impennata di positivi il numero dei ricoverati nei posti letto covid resta invariato. Aumenta invece inevitabilmente quello delle persone in isolamento. 495 sono a casa perché positive ma con sintomi lievi o asintomatiche mentre 1577 sono i confinati in sorveglianza attiva perché, benché negativi, hanno avuto contatti con dei contagiati. Tutte le province della Toscana nell'ultimo bollettino regionale sull'epidemia riportano nuove positività. Il numero maggiore, 17 casi, è nel territorio di Massacarrara ed è da ricondurre al focolaio rilevato nel centro di accoglienza a Casa Betania dove in tutto sono 21 e positivi alcuni dei quali già inersi nei giorni scorsi. La scoperta è avvenuta perché una delle donne ospitate in stato interessante era stata sottoposta a tampone in vista del parto cesareo ed è risultata positiva. Da lì si è risalita gli altri casi. Gli otto casi della provincia di Arezzo invece fanno parte del gruppo di giovani del Val d'Arno a Retinò rientrati da una vacanza in Grecia, così come due casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto, anch'essi tornati da un periodo di vacanza all'estero. Infine, i positivi emersi nelle province di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni scorsi.